Per i lavoratori frontalieri a cui è applicato il vecchio sistema fiscale è in arrivo la tassa sulla sanità. Lo prevede la bozza della legge di bilancio. Ad essere colpiti saranno i lavoratori che, dopo l'entrata in vigore del nuovo accordo fiscale, continueranno a pagare le tasse solo in Svizzera. Succederà dal 2024. Il prelievo varierà in funzione del reddito netto percepito. Si va da un minimo del 3 ad un massimo del 6%. Il primo a sottolineare la novità da Washington, dove si trova per lavoro, è stato ieri il capogruppo d'Italia Viva al Senato, Enrico Borghi. Questo, ha detto il senatore Ossolano, succede nonostante le rassicurazioni arrivate all'atto della ratifica dell'accordo fiscale. Si tratta di una scelta incomprensibile che penalizza un comparto importante. Inutile sottolineare come la notizia abbia creato parecchio subuglio tra i frontalieri. Il sindacato svizzero OCST tuona. Questa manovra è stata decisa senza una preventiva discussione con le parti sociali. La liqueta esatta verrà decisa dalle singole regioni, quindi potranno esserci delle differenze anche tra chi vive in Piemonte e chi vive in Lombardia. Le nuove risorse dovrebbero, spiegano ancora dal sindacato svizzero, essere utilizzate per migliorare le condizioni del personale medico di frontiera e finanziare gli ospedali di confine, con lo scopo di limitare anche la fuga dei professionisti del settore verso la Svizzera. Nessuna indicazione al momento su come avverrà il pagamento. Probabilmente sarà il frontaliere a dover in qualche modo certificare il proprio reddito. Antonio Locatelli, portavoce dei frontalieri del VCO, sulla questione è chiaro. Siamo a dir poco allibiti per come il Governo infiarisce su una categoria di lavoratori che soprattutto nel VCO sono penalizzati anche a livello di viabilità. Creiamo un indotto economico diretto e indiretto di non poco conto. E Locatelli dice che tutto questo può succedere perché a livello istituzionale non vi è nessuna considerazione per la nostra categoria. Queste sono le conseguenze, nonostante i continui solleciti, arrivati dalla nostra categoria, oltre che dalle organizzazioni sindacali e dalla rappresentanza del Comitato Sindacale Italo-Svizzero. Romina Baccaglio, esponente della CISL a Piemonte Orientale e reduce da 1 a 2 giorni a Riccione, dove si è parlato di sindacato e dove si sono dati appuntamento i consigli sindacali interregionali d'Europa, spiega l'argomento. È stato al centro dei nostri lavori. Crediamo la sede giusta per far tornare il Governo sui suoi passi sia il tavolo interministeriale già attivo. Sia chiaro sindora che per noi la norma deve essere stralciata. non dovranno essere i frontalieri a pagare la sanità di tutti i piemontesi.